Amici del Grande Calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazaku e io sono Tatsuna, penso. Allora, questo video nasce perché giustamente Tatsuna... Cresce e corre, vuoi di chi? Questo video nasce perché giustamente Tatsuna mi ha fatto notare una cosa e quindi secondo me si potrebbe approfondire l'argomento. L'argomento ovviamente riguarda il Napoli e soprattutto riguarda di Romelu Lukaku e del modo in cui viene utilizzato dal Napoli di Antonio Ponte. Qua sta la lavagnetta tattica, ti ho preparato tre situazioni, esponici il tuo pensiero e ne parliamo insieme. Prima però ti ricordo di iscriverti, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo, seguiteci anche su Instagram e TikTok, sempre Senza Giri di Parole ci chiamiamo e condividete questo video così ci aiutate a crescere come canale. Tatsuna, fammi capire qual è il ragionamento. Allora, il problema qual è? Se c'è un problema. E secondo me c'è. Vai, ti ascolta. Nella partita con il Cagliari noi abbiamo assistito alla funzione di Lukaku come boa, solo che più che come boa a me è sembrato un magnete. Avete presente? Quando c'è un magnete ci sono tutte le altre cose che agiscono nello spettro elettromagnetico, avvicinandosi e orbitando attorno al magnete. È così che si sono comportati i giocatori del Napoli. Cioè, la sensazione che ho avuto io è che il Napoli fosse molto dipendente, non tanto dalle sponde effettivamente, ma dalla presenza in campo di Lukaku, che è molto diversa da quella di Osimène. E per farvi l'esempio più plateale che sono riuscito a cogliere in termini di dati, così che diamo anche un pochino di dimostrazione pratica di quello che intendo, la coppia di passaggi più affiatata contro il Cagliari è stata Lobotka-Lukaku, con 13 passaggi. Ora, già di per sé è strano, solitamente, che un metronomo interagisca molto con la punta, a meno di una partita abbastanza particolare, ma quello che è ancora più strano è che nessun'altra coppia, voi immaginatevi quante volte, per esempio, un giorno si scambia palla con Rachmani, oppure Rachmani se la scambia con Di Lorenzo, immaginatevi tutte le coppie che ci possono essere, tra cui anche Lukaku e Quara, e poi c'è stata proprio invece quella che è stata molto più presente fra le altre, che è stata la coppia dallo Botka-Lukaku. Quello che mi perplime di questa possibilità è che c'è una fissazione, che noi abbiamo sempre conosciuto, perché poi da quando c'è stato l'Inter di Conte, tutto il calcio italiano conosce la fissazione di Conte, e c'è questa fissazione da parte del Napoli di passare sempre per Lukaku, cioè se Lukaku non passa per la palla, addomesticandola, bloccandola, permettendo agli esterni di salire, tutti stanno fermi fondamentalmente, cioè il gioco con il Cagliari è stato bello, io non sto dicendo che non vada bene, però mi spaventa un po' vedere che l'ossessione per Lukaku stia un po' limitando la manovra di gioco, soprattutto perché non si può fare affidamento totale su un giocatore come Lukaku, che notoriamente ha dei problemi fisici, peraltro sta anche in una fase discendente della propria carriera, e nel frattempo invece il Napoli c'è tanti giocatori che sono forti, che possono caricarsi la squadra sulle spalle, quindi generalmente è questo. Poi possiamo approfondire con degli esempi, possiamo approfondire con gli episodi. Diciamo che alla fine è quello che un po' cercava Conte, cioè alla fine Conte proprio desiderava avere Lukaku con tutto se stesso per mettere in atto la sua idea di calcio, cioè si può proprio riassumere in questo, cioè l'idea di calcio di Conte è che ci deve essere una punta che si viene a prendere il pallone, che faccia da fulcro dell'intera manovra, perché in tutte le situazioni c'è bisogno sempre di partire da questo presupposto, cioè la punta si deve prendere il pallone, quindi ci sta questo gioco come abbiamo visto spesso con il Cagliari, questo scambio tra Lobotka e Lukaku, quindi Lobotka lo cerca proprio Lukaku, infatti è una cosa che effettivamente è balzata all'occhio spesso, perché poi non siamo abituati a vederlo, cioè Lobotka che va direttamente in verticale sulla punta, e Lukaku quasi, cioè era proprio voluta e studiata che lui si doveva portare Mina, perché doveva stare qui ad aspettare il passaggio di Lobotka, e quindi l'idea sta proprio nel servire Lukaku e poi lui si può servire sia di Kvara che si accentra, di Politano che si accentra, di Anghissà che magari gli fa la sponda, sia in uscita, sia per quanto riguarda magari una fase di gioco un pochino più avanzata, questa è una fase di pressing, qua invece è una fase un pochino più avanzata, stesso discorso, cioè se Lukaku si mette qui a ricevere palla direttamente sui piedi, c'ha sempre un difensore che lo va a chiudere, quindi per forza di cosa si crea uno spazio, perché il difensore, se vede l'attaccante che riceve palla, uno dei due deve seguirlo, e quindi l'idea di Conte sta proprio in questo, secondo me, che a lui gli piace creare questa rottura della linea difensiva avversaria, perché quando il difensore segue Lukaku, si crea per forza di cose un buco, deve essere bravo un centrocampista, o un terzino, ad andare a chiudere quello spazio, però è proprio quello l'obiettivo, cercare di indurre l'avversario a un errore, tipo come è successo con il Cagliari nel secondo gol di Kvara, che noi abbiamo visto bene, se non avete visto quel video, andatelo a recuperare, abbiamo mostrato con la lente di ingrandimento tutte le chicche che ci sono in quel gol, non lo trovate sul canale, il video, e tipo in quella situazione lì, a lui piace proprio creare questo duello tra difensore e attaccante, perché poi se la spunta il nostro attaccante, poi facilmente può mandare uno dei due esterni in porta, perché poi da Lukaku alla fine sì, per me è più utile agli altri, che è utile a se stesso, cioè un giocatore che magari in gioventù anche, poteva sfruttare anche per se stesso, il fatto di essere il fulcro del gioco, adesso magari in un'età un pochino avanzata, anche perché poi lui è diventato più esperto rispetto a prima, quindi le conoscenze si sono fatte più importanti, lui secondo me in questo momento è molto più utile agli altri che a se stesso, quindi secondo me tutto il gioco di Antonio Conte si concentrerà su questa cosa, per me la problematica non è proprio Lukaku, è proprio l'abituare una squadra a giocare in questo modo, sempre, e se poi manca Lukaku, devi fare qualcosa altro, quindi la problematica secondo me non è tanto quando c'è Lukaku in campo, che magari in campo anche Lukaku può diventare prevedibile, perché poi alla fine è Lukaku proprio che ci rende imprevedibili, perché lui una volta che riceve palla può sfruttare tutti i giocatori, veramente qua diventa proprio una cosa molto imprevedibile secondo me, quindi non è tanto quando c'è Lukaku in campo, e quando poi non ci sarà in quelle partite Lukaku, con Raspadori o Simeone dovrai improvvisamente giocare in un modo diverso, e magari lì potresti addirittura andare a perderci dei punti, tra parentesi, noi lo sappiamo bene perché l'abbiamo visto con Osimen, cioè noi sentivamo tantissimo la differenza di avere Osimen o meno, perché il gioco del Napoli con Osimen in campo era soprattutto all'attacco della profondità, questo pallone che lanciavi di prima perché sapevi che Victor ci arrivava sempre lui, quindi stesso discorso fatto in maniera opposta, la puoi fare anche su Lukaku, perché tu sai che Lukaku riuscirà a proteggere palla, qualsiasi difensore ci sta, sai che Lukaku viene bene incontro a Asmi a fare la sponda, quindi quando poi ci mancherà, avremo più o meno la stessa situazione che avevamo con Victor, cioè dovremo trovare altre alternative per forza, sono d'accordo con te, la differenza che ho percepito con Osimen è ovviamente ragazzi, è relativamente presto per parlarne, però voglio dire alla fine noi dobbiamo renderci conto di una cosa, non è che il Cagliari è arrivato a fare tante occasioni da gol perché gliele abbiamo regalate, è perché recuperavano palla e il giocatore che ha perso più palla in assoluto fu Lukaku in quella partita, ora perché è stato Lukaku? ovviamente perché è stato quello più impiegato, cioè non è che Lukaku abbia sbagliato chissà che, è ovvio che se ti arrivano 100 palloni, ne sbagli 20, è normale, è corretto, cioè non è una cosa sorprendente, a me arrivano 25 palloni, ne sbaglio 2 per esempio, cioè ci sta, è perfettamente normale, però il punto è che i palloni persi da Lukaku sono stati molto spesso vedenosi, solo perché persi? Persi perché a Mina non veniva chiamato un fallo, perso perché lui quella volta sbagliava la sponda, perso perché magari la sponda riusciva ma poi veniva aggredito bene il portatore di palla che aveva intuito la manovra che noi stavamo effettuando, e quindi poi perdevamo azioni da gol, e qual è il problema? è che si va a infiacchire una manovra così, e la differenza con Victor, qual è quando c'era Victor in campo? È ovvio che tu sai, c'è un giocatore come Victor, non l'abbiamo sempre descritto, ci abbiamo fatto un sacco di video su questo argomento, il logoramento psicofisico che Victor causava nei difensori avversari, causa ancora, però non in Italia fortunatamente, e quindi noi lo sfruttavamo, però non è che la manovra doveva passare per Victor, cioè l'esistenza, anche senza palla di Ozyman, determinava che noi potevamo sfruttare il logoramento che lui esercitava sugli avversari, ora il problema con Lukaku è che io ho visto proprio i giocatori, magari perché non erano esattamente in fase, anche se dubito, limitarsi, veramente limitarsi, perché si doveva gravitare attorno a Lukaku, nell'attesa che lui compisse una giocata, e a me non è che preoccupa che non possa funzionare, perché è ovvio che funziona alla lunga, il problema è che tu puoi fare anche tante altre cose, e quindi vi dire il metronomo in campo che insiste ossessivamente verso Lukaku, quando magari ha l'apertura verso Quara, o anche l'apertura verso Politano, o la stessa cosa fa Politano, che in realtà vabbè ho costruzzato la fatta a tal proposito, è quello che mi preoccupa un po' di più, perché è vero che c'è una semplificazione, perché attenzione, questa è una cosa assolutamente da ribadire, il fatto che Lukaku ti faccia saltare molti passaggi, è un vantaggio, perché se tu passi la palla ad un giocatore che fa da boa, e poi praticamente da solo ti porta in porta, ti porta alla porta avversaria, scusate il gioco di parole, perché gli avversari gravitano attorno a lui, perché sta fuggendo da boa, è ovvio che tu hai saltato potenzialmente molti passaggi per arrivare in zona goal, però questa semplificazione se tu la devi ricercare non deve essere ossessiva, a me sembra che fossi ossessiva. Più che altro, l'ossessione molto spesso viene anche un pochino enfatizzata, cioè alla fine se la base del tuo pensiero di calcio è quella, è quasi ovvio che lo vai a ricercare sempre, cioè io non vedo più, cioè io non vedo Lukaku come l'ossessione del Napoli, è proprio il punto di partenza di ogni azione, cioè un po' come lo era Lobot, oppure come era Kvara lo scorso anno, cioè in questa situazione dobbiamo semplicemente riguardare il tutto da un'altra prospettiva, secondo me, cioè mentre Ozyman l'anno scorso era la nostra freccia, e quindi gli altri erano l'arco che dovevano lanciare la freccia, in questo caso Lukaku funge da arco e le frecce sono gli altri, quindi se io devo parlare in modo, cioè devo ragionare in modo collettivo, secondo me a un giocatore come Kvara serve più un Lukaku che uno Simeon, ma pure Politano forse ha più bisogno di un Lukaku che uno Simeon, cioè tutti i giocatori che stanno intorno a Lukaku, probabilmente rispetto ad uno Simeon che invece andava proprio a centralizzare tutte le sue azioni, cioè tutte le azioni dovevano in qualche modo finire da lui, perché era lui la freccia, le frecce quest'anno potrebbero essere altre, quindi magari l'imprevedibilità sta proprio là, cioè magari è prevedibile che il pallone arriverà a Lukaku, ma è imprevedibile dove la darà Lukaku? perché se partono due in contemporanea, cioè riceve palla poi Lukaku e parte sia Kvara che Politano, l'azione diventa imprevedibile perché poi si libera magari o libera dall'altra parte, cioè vedi alla fine è prevedibile la giocata su Lukaku, ma quello che viene dopo è molto imprevedibile secondo me. Sì, però mi è venuto in mente... Toccatevi, toccatevi, mi è venuto in mente Garzia, Garzia quando ha parlato di Robotka, perché lo accusavano incorrettamente, noi lo sappiamo perché ci abbiamo fatto un video su questa cosa, di non stare sfruttando più Robotka, o meglio di non aver centralizzato il gioco attorno a Robotka, e lui con una risposta che era una risposta un pochino troppo sapiente, permettetemelo, che lui avrebbe dovuto dare la risposta che ogni allenatore oggi darebbe, cioè che non è vero, lui ha dato la risposta che doveva dare, cioè se anche fosse io non voglio dipendere da un solo giocatore, perché è pericoloso, è pericoloso non perché quel giocatore necessariamente si debba fare male, allora lo so, magari quel giocatore come Robotka gioca 60 partite all'anno, non ci fa stire male, però tu hai una carta in meno da giocarti, cioè quando io vedo Politano e Kvara, che è stata la caratteristica della partita con il Cagliari, poi dobbiamo vedere se questa cosa si ripeterà, secondo me sì, però vediamo se si ripeterà, io quando ho visto Kvara e Politano così tanto attaccati a Lukaku, e non sfruttare l'ampizza, ho pensato, ok però qui ci stiamo negando tante carte, cioè io capisco che ci sia un piano tattico, però il piano tattico non è una regola fissa, è un piano che quando tu hai l'opportunità di concretizzare, concretizzi, lo metti in pratica, ed è quella un po' la cosa che mi ha preoccupato, perché poi quando ha funzionato il piano, voglio dire siamo stati devastanti, e non lo dicono i 4 gol, ragazzi, i 4 gol non c'entrava niente, c'entra il fatto che tu hai fatto 13 tiri e sei arrivato in porta 5 volte, perché se non mi sbaglio abbiamo fatto 5 tiri in porta, e quelle 4 volte che hai segnato, è perché evidentemente erano 5 occasioni da gol, una più ghiotta dell'altra, quindi da questo punto di vista funziona, e io non ho dubbi sul fatto che funzioni, vorrei semplicemente che non ci impigrissimo, cosa che ho un po' notato nella partita con il Cagliari, perché se ci sono certi giocatori che io nel post partita a freddo, ho criticato perché non avevano preso troppa iniziativa, poi il giorno dopo mi sono svegliato e ho pensato, ma io ripensando alla partita, mi ricordo che è successa questa cosa con Lukaku, quindi è una cosa in divenire, perché stiamo parlando di cercare di capire dove andrà a finire questa storia, però di per sé sono un pochino preoccupato, perché è una tattica che funziona ma che deve essere gestita saggiamente, cosa che con il Cagliari non è stata, perché se il Cagliari molte volte ha potuto approfittare dei nostri errori, è perché noi andavamo ossessivamente su Lukaku, anche quando non c'era bisogno di andarci. Sì sì, questo è un dato di fatto, dal punto di vista per esempio di Kvara, secondo me è un vantaggio enorme, perché non so se hai notato ma Kvara ormai non riesce più ad essere triplicato, ma per un semplice ragionamento, cioè se prima le azioni partivano da Kvara, adesso Kvara non è più quello lì che deve essere servito, e quindi ci sta l'avversario che lo vede arrivare, che si deve accentrare, si mette a sfidare, cioè ci sono stati duelli Kvara contro i difensori, però quando Lukaku prende palla, Kvara non è più quel giocatore che può essere triplicato, perché non ha senso, se il pallone c'è la Lukaku, è Lukaku che deve essere tenuto d'occhio soprattutto, non Kvara, quindi la marcatura stretta, la doppia, tripla marcatura a Kvara, non c'è più, di per forza di cose, ne giova da questa cosa, quindi magari dal punto di vista della punta centrale, ecco, Lukaku diventa quasi un coprotagonista nella manovra, cioè un protagonista nel far partire le azioni, però come per esempio abbiamo visto col Cagliari, alla fine lui si è ritrovato a fare due assist invece di segnare, quindi probabilmente l'idea è proprio quella, cioè non è detto che debba essere per forza Lukaku a essere il finalizzatore principale di questa squadra, sinceramente a me questa idea piace parecchio, perché sono convinto che, per esempio soprattutto a Kvara la problematica principale era questa, che lui aveva il compito di far partire le azioni, e quindi l'avversario sapeva perfettamente che dovevano andare tutti quanti dal suo lato per fermarlo, se Kvara invece improvvisamente prende palla perché due secondi prima ce l'aveva Lukaku e stavano addosso a Lukaku, Kvara ha decisamente più spazio di manovra e non hanno il tempo di andarlo a raddoppiare e triplicare subito. Certo, sì sì, infatti quello è il vantaggio principale, che così come i tuoi giocatori gravitano attorno al giocatore, anche gli avversari, perché capiscono che il gioco si centralizza lì e quindi cercano di intervenire, ovvio, quello è il vantaggio principale. Vabbè ragazzi, vedremo cosa accadrà nelle prossime partite, la prossima è proprio contro la Juve, vediamo, vediamo se funzionerà o meno, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa, di questa, tra virgolette, problematica di questo argomento, se siete d'accordo o meno con l'idea di Conte, se vi piacerebbe una cosa diversa e vi preoccupa come a Tatsuna, e mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi, condividete il video così ci aiutate a crescere come canale, e forza Napoli, sembra you!